Bella a tutti ragazzi, oggi prima di parlarvi di alcuni cambiamenti del canale ci tenevo a salutare diverse persone ovvero Nunzia Sant'Agata, Pirata Pazzo, Dragon Ale, Giuseppe Maturilli, Mister Lengechi ed Aissa King inoltre per questo video volevo consigliarvi un canale ovvero quello di Itz Nutella VGF che a breve porterà contenuti di Roblox quindi per chi piacesse vi consiglio veramente di iscrivervi perché è un canale davvero molto molto bello La vera domanda è perché fai questo video? Allora faccio questo video per comunicarvi che oggi ragazzi è l'ultimo giorno in cui possiamo fare uno contro uno con gli iscritti e ho preso questa decisione per alcuni aspetti ovvero che comunque le persone che partecipano appunto sono sempre di meno e quindi ho anche più difficoltà ad organizzare questi eventi non solo per le persone che partecipano ma anche soprattutto per il tempo che sta diminuendo in una giornata quindi purtroppo oggi è l'ultimo giorno di uno contro uno ma siccome è l'ultimo giorno non possono partecipare solo tre persone ma possono partecipare tutte le persone che vorranno per un'ora intera l'evento di oggi è alle 13 e 15 quindi tutte le persone che mi inviteranno fino alle 14 e 15 potranno partecipare quindi adesso cosa succederà al canale? soltanto momentaneamente da venerdì purtroppo i video saranno due e non più tre tra cui un video casuale che sceglieremo e un altro video invece di una nuova serie che volevamo sperimentare già da qualche settimana ma il tutto ve lo spiegheremo domani nel video scrivete qui sotto nei commenti se vorreste essere salutati appunto nel video di domani e noi ci vediamo con i video di oggi alle 15 e alle 18 e soprattutto con le amichevoli 1vs1 alle 13 e 15 bella